Molto bene, sì, mi sono allenato molto per arrivare prima parata a questa corsa e qui siamo una buona squadra, cercheremo di sfruttare le occasioni per ruote veloci come me oggi. Oggi è una giornata per sprinter? Sì, oggi è una giornata per sprinter, c'è questa salita nel finale, cercheremo di prenderla davanti per cercare di risparmiare un po' di energia per la volata. Oggi con gli avversari, Benet, Buany, sono i più pericolosi, secondo me sono le ruote da vedere oggi.